si tratta di un chilo e due di funghi settembrini di circa un etto l'uno poi c'è un bel moro che ha trovato la bruna e circa quattro etti poi dei moretti che ho trovato io abbastanza schifosetti nel solito posto alla parete e però questi settembrini di bruna sono la speranza del futuro perché vuol dire che avevo ragione a dire che sarebbero venuti si è patito un po dovuto aspettare un po stop